Prima dell'ultima guerra, le ragazze che abitavano nelle borgate venivano raramente in città. Ogni volta che questo accadeva era un avvenimento di una certa importanza. Esse indossavano l'abito della domenica e si imbarcavano per il grande viaggio sui traballanti e polverosi autobus che collegano Roma alle sue cento borgate e che sono rimasti da allora gli stessi. Esistono tuttora ragazze delle borgate che non sono mai arrivate fino al centro propriamente detto.